1080 nuove dosi di vaccino per Oristano. A Cabras il sindaco rischia una denuncia per la chiusura del museo civico. Presto nascerà un nuovo centro commerciale a Oristano. In esposizione da oggi al museo diocesano gli arazzi della vittoria. Benvenuti, sono 87 i nuovi casi di Covid-19 accertati oggi in Sardegna. Il rapporto casi positivi e tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività pari all'1%. Si registrano purtroppo anche 8 decessi. I guariti di oggi sono 204, mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 226. Sul territorio della provincia di Oristano si contano 4 nuovi casi. A Oristano oggi sono stati accertati 2 nuovi contagi e 5 guarigioni. Le 1080 nuove dosi di vaccino anti-Covid consegnate al servizio di farmacia dell'ASL di Oristano saranno utilizzate per la vaccinazione di operatori ed ospiti di comunità integrate per anziani e di riabilitazione fra i volontari del 118. Sentiamo il servizio. Giovedì 11 febbraio sono state consegnate al servizio di farmacia dell'ASL di Oristano 1.089 dosi di vaccino anti-Covid Pfizer. Le nuove forniture, ha dichiarato la direttrice del servizio di igiene e sanità pubblica Maria Valentina Marras, permetteranno di procedere con la vaccinazione di operatori e ospiti di comunità integrate per anziani e di riabilitazione e di riabilitazione fra i volontari 118. Le oltre 1000 dosi a disposizione dovranno essere somministrate in 5 giorni fino a martedì. Si andrà avanti perciò a ritmi serrati, ha continuato Marras, lavorando tutti i giorni, domenica compresa, come dall'inizio della campagna vaccinale. Lo scopo è quello di vaccinare entro le prossime settimane tutte le strutture residenziali, sociosanitarie e sociali per anziani e soggetti con problemi di salute mentale e dipendenze, strutture che contano oltre 2000 persone, fra personale e ospiti, per fare questo saranno operativi sul territorio 4 team, chiamati punti di vaccinazione mobile composti da personale ASL che si recherà nelle strutture per immunizzare sia gli ospiti che il personale che vi lavora. In provincia dovranno essere passate a setaccio 47 strutture ad esclusione della RSA di Midis e dell'istituto Santa Maria Bambina, già presi in carico nelle scorse settimane. Accanto a case di riposo, ha aggiunto la Marras e comunità d'accoglienza che rappresentano al momento la priorità assoluta. Si partirà anche con la somministrazione del vaccino ai volontari del 118. La precedenza sarà data al personale impiegato nelle ambulanze più esposto al rischio di un possibile contagio. E cambiamo argomento. Chiuso da tre giorni il Museo Civico di Cabras, all'interno del quale si trovano le statue di Montebramma. Nessuna possibilità di accesso. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari. Vediamo. Inevitabile la presa di posizione dell'avversario. Da una parte la conferenza stampa straordinaria, l'ordinanza di chiusura della struttura museale, la petizione online, i messaggi di solidarietà, l'annuncio di una manifestazione fuori dall'edificio. Dall'altra l'indagine dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari. Sotto la lente di ingrandimento dei militari è finita l'ordinanza firmata dal primo cittadino cabrarese, Andrea Abis, provvedimento che vieta a chiunque di entrare nel Museo Civico. Cancelli chiusi anche per la sovrintendente Maura Picciao, presentatasi mercoledì 10 febbraio per un primo sopralluogo. Proprio dopo tale vicenda, i carabinieri del nucleo tutela patrimonio hanno avviato l'indagine. Nei giorni scorsi sono stati acquisiti una serie di documenti relativi al restauro e tra queste anche tutte le email tra sovrintendenze comune di Cabras. Al termine di tutti gli accertamenti i carabinieri invieranno una relazione alla Procura della Repubblica. Intanto è tutto pronto in vista della manifestazione organizzata dall'amministrazione Abis per domani mattina alle 10 davanti al Museo Giovanni Marongiu a Cabras. Alla manifestazione parteciperanno i rappresentanti dei vari settori trainanti per l'economia locale. Fra i vari interventi è previsto quello del comparto turistico che più di tutti teme un ulteriore tracollo a seguito del paventato allontanamento di parte del complesso scultoreo. Saranno presenti con la loro testimonianza anche gli operatori del settore enogastronomico e di quello agricolo e ittico. Il sindaco Andrea Abis si è rivolto agli abitanti di Cabras con un video messaggio chiedendo ai cabraresi di esporre un lenzuolo bianco alla finestra in segno di festa. Sempre restando sull'argomento i deputati sardi del Movimento 5 Stelle, Lucia Ascanu, Mario Perantoni, Luciano Cadeddu, Pino Cabras e Paolo Dejana dicono no al trasferimento a Cagliari di alcuni dei giganti di Montebrama e di altri reperti in attesa di restauro. Sentiamo. E' approdata in Parlamento la vicenda del trasferimento dei giganti di Montebrama a Cagliari per il restauro. Sarebbe questo l'oggetto dell'interrogazione presentata alla Camera dai portavoce del Movimento 5 Stelle, Lucia Ascanu, Maria Perantoni, Luciano Cadeddu, Pino Cabras e Paolo Dejana. Abbiamo chiesto al MIBACT quale iniziativa intenda adottare al fine di garantire che le programmate attività di restauro vengano realizzate sul territorio, evitando l'ulteriore smembramento dell'inestimabile patrimonio archeologico di Montebrama, assicurando in ogni caso preventivamente il ricollocamento delle statue presso il Museo di Cabras, qualora il trasferimento sia assolutamente inevitabile. Inoltre, cogliamo l'occasione per sollecitare la creazione della fondazione Montebrama, già prevista nell'accordo di valorizzazione del 2017, mai realizzata a causa di incomprensibili ritardi da parte della Regione Sardegna. Nella nostra informazione di ieri giovedì ci si è lasciati appesi al risultato che doveva discendere dal voto dei militanti di 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau che dovevano esprimersi se il movimento doveva o meno sostenere il governo che il professor Mario Draghi è stato incaricato di formare. Poco dopo le 19 la comunicazione del risultato che ha registrato il 59% di assenso al tentativo in atto e per i 5 Stelle resta alla grana interna con una fronda del 40% contraria. Difficile al momento prevedere gli sviluppi e quali saranno i comportamenti ad iniziare del gruppo dei parlamentari che in queste settimane ha sempre considerato innaturale il fatto che il movimento appoggiasse il percorso del Premier incaricato. A questo punto la partita sembra avviarsi verso una conclusione positiva che vede Mario Draghi impegnato a fare il punto sui contenuti delle consultazioni dalle quali ha ottenuto il via libera. Sono comunque diversi gli spigoli ancora da smussare in quanto prosegue l'agitazione del centro-sinistra e della grande stampa orientata che non digerisce la ribadita disponibilità della Lega verso il tentativo del Presidente incaricato che si presume prenderà corpo entro questo fine settimana. E torniamo in Sardegna nella finanziaria regionale che verrà approvata fra qualche giorno. Sono pari a 3,7 miliardi di euro per le risorse destinate alla sanità. Sono 3,7 miliardi di euro le risorse destinate alla sanità sarda e alla tutela della salute per complessivi 11 miliardi nel triennio 2021-2022-2023. La pandemia ci ha costretto ad affrontare anche dal punto di vista sanitario un periodo di profonde trasformazioni a cui sono inevitabilmente seguite misure straordinarie messe in campo per arginare gli effetti della crisi che con la finanziaria abbiamo voluto confermare e arricchire, ha affermato il Presidente Christian Solinas, commentando le misure relative alla sanità e alle politiche sociali contenute nella manovra. A favore dei pazienti diabetici è stata autorizzata la spesa di 4 milioni per ciascun anno nel triennio in corso per l'acquisto di dispositivi di misurazione della glicemia che costituisce una delle misure più attese e di sicuro una delle novità della manovra. Massima attenzione alle persone più fragili, 328 milioni di euro le risorse stanziate per le politiche sociali e la famiglia, di cui oltre 250 destinati a sostegno di interventi per la disabilità, finanziamenti per cui la Sardegna si posiziona fra le regioni più virtuose. La crisi economica di vari comparti agricoli e le ripetute difficoltà climatiche non frenano la solidarietà. Il coordinamento donne impresa a Oristano con una delegazione di imprenditrici agricole guidata dalla responsabile provinciale Maria Francesca Serra, da Ivana Olla e Daniela Cinghialta, nella mattinata di venerdì hanno consegnato alla Caritas Diocesana di Oristano del formaggio vino sardo e della polenta da distribuire ai bisognosi. Voltiamo ancora pagina. Nello spazio del vecchio mercato ortofrutticolo nascerà presto un centro commerciale. Vediamo. In via Marconi, nell'area prima occupata dal mercato ortofrutticolo comunale, struttura che non ha avuto fortuna, cala il progetto per realizzare un altro centro commerciale in capo ad una società di Verona che all'asta si era giudicata l'area di oltre 7 mila metri quadrati. Il buon esito della vendita aveva consentito al Comune di incassare 2 milioni e mezzo di euro, uno in più, della base d'asta e l'operazione aveva reso felice il neoassessore alle finanze e patrimonio Angelo Angioi, in quella fase di fresca nome in assessoriale. Nel capoluogo, la nuova struttura è destinata ad implementare la già robusta presenza di una rete commerciale che ha raggiunto numeri e livelli tipici di una città da 100 mila abitanti, settore che pare non risenta della crisi o almeno per proprie ragioni non la manifesta ed è arduo verificare l'andamento e le dinamiche complessive del settore anche in assenza di organi di verifica e monitoraggio a fini statistici. Cambiamo ancora argomento. Da oggi al Museo Diocesano sono in esposizione gli arazzi che ricordano alla vittoria del 1637 dei Sardi contro i francesi. Vediamo. Il Museo Diocesano dal 12 febbraio ospita i quattro standardi monumentali provenienti dalla controfacciata della Cattedrale di Santa Maria Assunta, interessata dai restauri. Viene offerta al visitatore la possibilità di ammirarli ad una distanza ravvicinata, data la loro originaria collocazione a circa 10 metri di altezza e di conoscere una pagina della nostra città ricca di fascino e storia. Una testimonianza materiale dell'attacco francese alla città nel febbraio del 1637 che racconta Oristano nell'ambito della guerra dei Trent'anni. Questi standardi sono qualcosa di straordinario che possiede la città di Oristano che ricorda quel lontano evento di quattro secoli fa, un fatto drammatico che vide la città messa a ferrofuoco dagli invasori francesi. La flotta francese era arrivata nel golfo di Oristano, aveva espugnato la torre di Torre Grande con dei colpi di cannone e poi la città era stata abbandonata dalla popolazione che si era rifugiata a Santa Giusta e quindi i francesi ebbero la città in mano per alcuni giorni, il tempo che le truppe sarde si organizzassero e fossero diciamo cacciati gli invasori. Durante la ritirata lungo il fiume Tirso furono inflite dalle gravi perdite ai francesi e fu fatto un gran bottino tra cui appunto furono recuperati questi standardi portati processionalmente, cioè triunfalmente in città come segno del valore dei sardi. E per quattro secoli questi standardi sono stati conservati all'interno del Duomo di Oristano, lasciati intatti, mai toccati, fino al restauro che è stato operato dalla soprintendenza ai monumenti nel 2002, i primi due, e nel 2003 i secondi due, ad opera di due ditte diverse, Bruno Zai di Quarto Sant'Elena e l'Ermesino di Siena. Quindi con delle tecniche leggermente diverse, per cui i primi sono interamente protetti da un avvelo, i secondi invece soltanto le parti a ricamo. La tecnica è un ricamo a riporto ad applicazione con dei tessuti ritagliati in seta, in velluto e in rasatelo di seta, incollati e ricamati sul supporto in panno di lana arancio. La mostra sarà visitabile da venerdì 12 febbraio ed eccezionalmente lunedì il 15 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. La mostra è stata inaugurata stamattina per le autorità e la stampa e questo pomeriggio sarà aperta al pubblico dalle 17 alle 20 e poi da lunedì eccezionalmente, sia la mattina che il pomeriggio, poi dal martedì al venerdì. Purtroppo il sabato, come sapete, e la domenica i musei sono chiusi. L'ingresso per il mese di febbraio sarà gratuito. Spostiamoci ora a Macomere, dove è partita la RSA. Sentiamo Pier Gavino Vacca. Oggi è inizio l'attività della RSA di Macomere. Che cosa è un RSA? Ecco sì, finalmente partiamo con l'RSA di Macomere. L'RSA di Macomere è un'esigenza sanitaria per anziani e qui entrano gli anziani con diverse patologie. Questa è una struttura sanitaria che si occupa di curare pazienti con livelli assistenziali medio o medio-alti. Possiamo immaginare un paziente affetto da ictus oppure anche un mulatto terminale piuttosto che una persona che ha avuto una struttura al femore. Ecco, la struttura cosa offre in termini di locali e di attrezzatura? La struttura ha 40 posti letto totalmente accreditati dalla regione Sardegna. È una struttura di nuova generazione con un impianto fotovoltaico. Le stanze sono doppie e singole, tutte con bagno in camera, sistemi di domotica, climatizzate. Abbiamo il parrucchiere, abbiamo la palestra, abbiamo la cucina interna, abbiamo le educatrici che fanno le attività con i nostri ospiti. Insomma, diciamo che la vita del paziente qua può veramente essere piacevole. Quanti occupate in termini di personale? In questa struttura a regime avremo 18 operatori sociosanitari, 6 infermieri, 3 medici e poi il personale, 2 persone per le cucine, 3 educatori, fisioterapisti e psicologo. Sono Rino De Monti, sono un medico di medicina generale, sono il responsabile delle attività cliniche di questa RSA, dell'RSA di Macomera. Ecco, l'RSA non è una casa di riposo. A chi è riservata e per quali patologie? No, l'RSA non è una casa di riposo. Diciamo che l'RSA è riservata a quelli che sono persone diciamo che presentano delle patologie rilevanti, generalmente persone anziane o con patologie altrimenti invalidanti. Sono rivolte specialmente a persone, ripeto, anziane che possono essere, possono avere bisogno di assistenza medica ad alta e media intensità. Quelli ad alta e media intensità, se intendiamo per esempio pazienti che sono in, non so, pazienti neoplastici, pazienti che possono avere delle problemi di alimentazione. E torniamo ora ad Oristano, allo spazio giovani. Sono in corso di svolgimento i laboratori di educazione alimentare volti alla conoscenza e diffusione di buone pratiche in materia di alimentazione e salute. Vediamo il nostro servizio. Allo spazio giovane Oristano continuano i laboratori di educazione alimentare. Ieri, 11 febbraio, la presenza dell'assessore alle politiche giovanili Maria Bonaria Zedda si è tenuto in laboratorio sulla preparazione della mozzarella. Una quindicina i ragazzi che hanno seguito passo per passo i preziosi insegnamenti del casaro Enrico Chicco Iriu e che dopo averne appreso i segreti si sono cimentati nel confezionamento delle mozzarella. Lo spazio giovani è sempre molto attivo e molto bravo a proporre iniziative particolarmente apprezzate dai ragazzi oristanesi, ha affermato l'assessore Maria Bonaria Zedda. Per l'assessorato è un importante strumento a disposizione per dare attuazione alle politiche per i giovani. L'attività assume un rilevo ancora più grande in questo periodo, contrassegnato dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I laboratori affrontano il tema della corretta alimentazione, della correlazione tra le materie prime usate per produrre gli alimenti con la salute, ha spiegato il coordinatore del centro Antonio Ricciu. Gli argomenti proposti variano in base al laboratorio e dopo una panoramica generale sul concetto di sano alimentazione si concentrano sugli aspetti organizzativi in cucina e sull'igiene, sui concetti di cibo biologico integrale e a chilometro zero. Ed ora spostiamoci a Bauladu dove è stato pubblicato un avviso per l'assegnazione di bonus alimentari a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Sentiamo. È stato pubblicato sul sito del Comune di Bauladu un avviso per l'assegnazione di bonus alimentari a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico in conseguenza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19. Il bonus, o fanno sapere dal Comune, è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio a causa di gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile o limitato e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali dell'importo pari a 3.000 euro. Le persone interessate possono presentare domanda entro il 23 febbraio 2021. La Regione tutela il valore sociale, ricreativo e della salute che lo sport rappresenta destinando risorse ad hoc per le tipologie di imprese sportive che più a lungo sono state interessate dalle restrizioni. Particolare attenzione nella finanziaria, che a inizio settimana verrà esaminata dall'Aula del Consiglio, è stata infatti dedicata alle imprese di uno dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria ed economica, quello sportivo, in virtù delle chiusure a inizio pandemia e di quelle più recenti. Prosegue il ripristino delle consuete giornate di apertura e degli orari negli uffici postali della provincia di Oristano, attuato da poste italiane. A partire dal lunedì 15 febbraio torna infatti operativa su 5 giorni dal lunedì al venerdì la sede di Palmas Arborea, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato. Attualmente in provincia di Oristano sono aperti con diverse modalità tutti i 75 uffici postali presenti nel territorio. E questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con informazione. Ora vi lascio con il contest fotografico per come state vivendo la Saltiglia o il Carnevale in generale e poi subito dopo le notizie nazionali. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.